Quanta emozione è in grado di regalarci il mare? Noi partiremo da quelle salmastre, sensazioni in grado di scavare nella memoria delle persone per riscoprire insieme i sapori semplici del nostro passato. E' con la stessa emozione che vi presento la mia prima accademia del pesce, un viaggio interamente dedicato alla scoperta dei frutti di mare, dei pesci e del loro utilizzo poliedrico in cucina. Sono Giosef Micieri, chef del ristorante Sciabica e della trattoria Cucina Costiera a Punta Secca. Una splendida borgata marinara di quelle vecchie, di quelle all'antica, non contaminate, si trova nella zona di Ragusa in Sicilia. Sono un cuoco pescatore, ma in realtà non sono un pescatore professionista. Più che altro vado a mare per diletto e quindi mi hanno appellato in questo modo. Amo immensamente il mio mare più di ogni altra cosa. Da lui trago una linfa vitale che mi serve per cucinare. I suoi prodotti sono all'ordine del giorno all'interno della mia cucina e sono protagonisti indiscussi dei piatti che vado a creare. Ho diviso la mia Accademia del Pesce in ben 5 corsi. Inizieremo con il primo corso interamente dedicato ai pesci dalle carni bianche. Nel secondo corso tratteremo specificatamente quelli dalle carni rosse. I crostace, invece, saranno i protagonisti del terzo corso. Il quarto e il quinto corso lo dedicheremo ai molluschi, cefalopodi e bivalvi, un mondo a sé stante pieno di acqua di mare. Sarà un percorso online, ricchissimo di argomenti. Dalla scelta della materia prima, alla pulizia, alla sfilettatura, alle tecniche di cottura, come sceglierlo, conservarlo, trattarlo. Ci saranno tutti gli strumenti necessari per avvicinarsi al mondo del mare. Ci saranno tanti piatti e altrettante ricette. Ci dedicheremo con cura particolare alla presentazione di queste creazioni, perché ricordatevi una cosa. Un'esecuzione bella prepara il palato alla degustazione. Questa è una cosa in cui ho sempre creduto. Sono Joseph Micieli e vi aspetto su Club Academy.